Beh, io avevo chiesto, io insieme anche ad altri consiglieri regionali, avevamo chiesto ormai da diversi mesi di fare in modo che le categorie, i soggetti fragili o disabili fossero inseriti come soggetti prioritari. Questo purtroppo non è avvenuto. Per quanto riguarda soprattutto i disabili, intendo persone colpite dall'aspetto autistico, che hanno una disabilità sensoriale, interrettiva, di tipo psichiatrico. Quindi sono soggetti che molto spesso dipendono da altri, quindi hanno bisogno di supporto delle altre persone o dei familiari, quindi caregiver, e purtroppo ancora non sono inseriti tra coloro che hanno la priorità per essere vaccinati. Questo è un dato molto negativo, perché io ritengo che queste persone hanno bisogno veramente del sostegno e chi come noi ha un ruolo pubblico deveva inserirli tra i soggetti prioritari. Stanno iniziando per coloro che sono, come dire, in carico al sistema sanitario regionale. Mi riferisco ad esempio a una persona malata di tumore, cioè un oncologico, dove il sistema sanitario chiamerà questi soggetti, ma anche lì ci sono tanti soggetti fragili che a tutt'oggi non hanno la possibilità di potersi pronotare e quindi di poter fare il vaccino. Parliamo di persone che, se qualora dovessero essere colpiti dal virus, rischino, come altri, ma probabilmente più degli altri, le conseguenze. E quindi mi sembra importante, e continuerò a ribadire, che è necessario inserirli quanto prima perché possono fare appunto questo vaccino. Grazie a tutti.